Siete pronti ragazzi? Sì, signor Capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor Capitano! Kauai! Ah, ma tu sei quello... Ah, ancora per il torneo... Che è stato inglobato dal mostro e si è messo a piangere! Stupido moccioso! Oh, ma quello è il cosplay di Vaporeon! Ci sono i clandestini e non siamo in Italia? Mi coscia! Era davvero il cosplay di Vaporeon! Oh, ma guarda un entai! Adesso mi ci unisco anch'io! Che era? Ehm-do! E pure un calcio volante! Kauai!